Ciao a tutti amici di Youtube, io sono Nicola Bernardini e ho aperto questo canale per parlare di giochi, faccio tutorial, chiedetemi tutto, io so tutto, domandate, non esitate, siamo qua su Black Ops 1 e ora farò una partita Enderrise per, che ne so, magari mentre parliamo, intanto guardate che io ci ho fatto 70 round su questa mappa, però non avevo ancora dispositivi per registrare. Allora, in poche parole, adesso i giochi che io farò, i tutorial saranno tipo Gran Turismo 6, sugli assetti se volete, Black Ops 1 o Black Ops 2, poi c'ho anche Tekken, altri vari giochi. Scusate per la scarsa visibilità del video. Scusate per la scarsa visibilità del video. C'è una radio qua, no? Ascolto ogni volta che vengo in The Raid, troppo bene. Ok, che hanno fatto fuori una zombie perché non gli dava spesa. Se conoscete la storia zombie, capirete perché. Vabbè, allora, adesso di cosa volevo parlarvi? Oh, questo non ricordo, non me lo ricordo più neanche io. Allora, intanto farò delle parti di video e vediamo fino a che round arriverò. È da tanto che non gioco quindi non aspettiamoci grandi risultati, quindi. Ma sì, facciamo un minimo 20 round. Dai. così guardate come parto a fare come si parte, a fare una buona partita. Allora. Andiamo qua, qua non c'è zombie. Mi raccomando, iscrivetevi, commentate, lasciate un bel mi piace perché ho fatto una fatica per prepararmi a fare questo video. Poi fare i lavori che c'è da fare, eccetera. allora. Poi potete chiedermi giochi per pc. Io gioco su ps3, su playstation network. E mi chiamo, vabbè, cammina 1999 swift sulla ps3. Se volete chiedermi l'amici. Ok. Poi potete chiedermi easter egg, glitch, quello che volete. Dalla prima all'ultima cosa che vi viene in mente. Anche cose che poi ci divertiremo, però delle trollate con le mod, qualsiasi cosa. Intanto giro per la mano. Poi presto mi procurerà un hdpvr e quindi si vederà molto meglio. Vediamo un po' se gli sparo in testa quello là. No, non è neanche per l'anima di considerare. Ah, è tornato indietro. Bravo cucciolo. Ok. Ok, non ci chiudiamo i primi rami. Non muoriamo subito. Rischiamo di fare brutte figure. Se io mi sposto subito qua quando apro la porta, mi incastrerete nella porta, vedete? Vedete? E' l'inizio mio, andranno tutti lì sotto. Vedete? vi spostate subito appena appena aprite a destra. Qui vi incastrate. Gli zombie andranno tutti lì dietro, quindi avrete tempo ai primi round di lanciare una granata. Due, tre, quattro. Vedete? Sono tutti zoppi. E poi li andate a coltellare. Perché gli zoppi al terzo round muoiono con una coltellata. Vabbè, vi lascio, ora vi lascio con questo video. Tanto ne farò molti di video, quindi il mio canale sarà sempre attivo. Vi lascio con questo video. Vedete? Certo, andranno. Vai. Vai. Vai, vai. I miei antenati ci cospargono di doni.